A però, come hanno fatto presto, a passare ad altro, a mettere via il microfono. A però, finita l'intervista, era già tutto a posto, pronto per il prossimo. Tutto quell'interesse è così vero, come a dire ci pensiamo noi. A però, come hanno fatto presto, a cambiare faccia appena spento il microfono. A però. A però, come hanno fatto presto. Grazie. 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 Grazie.